Salve a tutti ancora con me, ancora una volta Non so, mi cazzo pardo Io, Richard Spigionamorta Della vita Divoratore Cercatore, minchia Sono qui a Viare Colosso stavolta Qui naturalmente per un nuovo video Bene, non mi piacciono molti i divoratori Andiamo avanti, questo è Viare Colosso L'ho già detto La cosiddetta Per l'invisto di Merinda Capofato Poi c'è un altro Yey, ecco Sbattono da una volta i nemici pure qua Ma c'è un pazzo Balbaggio Vediamo un pochettino Che cazzo mi capitano oggi? Non vuoi? Sì, cambia di idea E' meno male Fantastico Sorprendente E' vero sorprendente Ma che cazzo fai? Che cazzo ti sto coprendo quando il fuoco non mi capito? C'è un'altra cosa mi capita in meteorita Ecco 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 E quindi No Sì Dai cazzo 25 30 Precisi 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 Coglioni che sono stato Coglioni che sono stato Coglioni che sono Coglioni che sono stato 25 25 Beh si lo distruggo però 35 35 Com'è? Un mare storicchione Non ho altri moni Per 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 Non mi sa Non cazzo Non vedai Che cacchia Adapiasco Ci Gute Incaparti Aspetta Scolere La tempesta Qua Dai cazzo Dai cazzo Dai cazzo purtro cazzo 590 vabbè dai che cazzo me ne poto, dove mi cura oppure la risurga che faccio qui non mi mangio tanto per la vita cosa piasco a questo punto ho bisogno di usare un intero satiro per curarmi però almeno la fatina la fatina sì almeno sono arrivato ai miglia c'è una buona carta per attaccare carta del pet scarab cucciolo del sol la carta del mio pet da fila baby c'è una buona carta del mio pet buona no scherzavo non mi piace però è il mio pet guarda 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 faccio di guarda quando no perché no perché di beh come mazzo posso dire che sto bene no me lo vuoi dire vabbè cantissime strani no anche come no aspetta no capito 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 che sono sexy ecco qua spuntini allegria e questo io voglio mostrare tengo molti spuntini qui sono i più no aspetta si non è una specialità però dai poi stiamo dicendo che è carino qua mi ricordo l'ultimo smith che poi a rima notturna e bigo granchio smith non ce ne sono nemmeno come se ci potete notare a 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 nati negli animali nemmeno non solo diciamo nell'area principale spettacolo smith deve esserci qua guarda una cosa si eccolo no no mandragola mandragola rossa mandragola mandragola una scriglia di legno perché che è poteva stare pure bene senza questa ah si c'è una cacchia di missione ancora non si mettono nemmeno non faccio la missione in effetti beh ci sono qua diversi divoratori ci sono diversi mancioni diversi ricercatori divoratori eeeh ci sono tanti divoratori insomma c'erano tantissimi divoratori tutti i tipi qua c'è kirby aline lanciarlo cazzo kirby lancia torre in brezza l'erga no brezza allegra brezza l'erga ma non si mentale minchia esce tutto il nome di ragione non non si mentale divoratori sgranocchiatori così attenzione un attimino il mio sogno scuola rapido il mio sogno il mio sogno e abita il mio 90 se arriverò il mio 90 ma ce la farò anche grazie a voi iscrivetevi al mio programma anche se so che è una merda iscrivetevi per favore me lo mettete mi piace commentate tutte pure negativi pure commentate ma di non me ne fico un cazzo ma almeno commentate fate qualche cazzo di cosa ah forse qua non me ricordo vedete Mattia con la ecco questo dovrebbe essere ecco ecco Non mi ricordo c'era dietro la storia infatti Qua dietro Oh Dove sta? Era qua dietro mi ricordo Come dire no? Apri Sesano Merda merda Quanto sei carino Intanto Castello di ingoglia pietra Ok qua Le pietre si mangiano Per giunta se le ingogliano Ingoio pietra Ingoio pietra Ah si Ecco le Volevo mostrarmi la stanza Da cerire il divoratore No Eh si dai No No Si Ragazzi pure fiasco Vi saluto Iscrivetevi ancora una volta Mettetevi mi piace al mio programma Erremantimenti Sono ancora qui Al prossimo video Al prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.